L'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte dell'organo esecutivo è stato in considerazione del lavoro svolto negli ultimi anni quello che ha richiesto maggiori energie, ha dichiarato l'assessore al bilancio e alle finanze del comune di Frosinone, Riccardo Mastrangeli. Gli enti locali infatti sono allo Stato attuale particolarmente esposti nel trovare soluzioni al fine di garantire servizi essenziali per la comunità. Il comune di Frosinone, al pari della maggioranza degli enti locali vulnerabili in quanto già in piano di riequilibrio e costretto a recuperare ingenti risorse ereditate dal disequilibrio dei conti dell'anno 2012, ha subito continue contrazioni dei trasferimenti erariali dallo Stato. A ciò si aggiungono gli ingenti debiti degli anni pregressi verso i fornitori per circa 40 milioni di euro, il cui pagamento tramite l'anticipazione di liquidità della Cassa Depositi e Prestiti comportano annualmente un rimborso di circa 1 milione e mezzo di euro. Precisa dalla difficile situazione economico-finanziaria di contesto, ha precisato Mastrangeli, il bilancio che sarà portato in Consiglio Comunale presenta la razionalizzazione di alcuni costi e al tempo stesso nuovi investimenti a favore della cittadinanza con vantaggi importanti per l'intera collettività. Il pagamento della Tari di quest'anno sarà ridotto in modo sensibile per le famiglie, circa il 15% rispetto all'anno precedente, grazie ad una eccellente quota di raccolta differenziata che riduce il conferimento e quindi il costo di discarica dei rifiuti solidi urbani. Altra notizia positiva riguarda il passaggio indenne del Comune di Frosinone dalle conseguenze dovute alla recente sentenza numero 18 della Corte Costituzionale che ha sanzionato, dichiarando illegittima, la normativa del 2017 che aveva permesso agli enti in riequilibrio finanziario di poter ridurre i propri progressi disavanzi trovati prima del 2015, non avendo potuto attivare il Comune di Frosinone alcuna rimodulazione del proprio piano di riequilibrio in tale direzione.